E' stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino mentre stava facendo rientro da Londra. In manetta è così finito un altro giovanissimo che secondo gli inquirenti farebbe parte della Baby Gang a Montana, ispirata al noto personaggio di Scarface. Il giovane aretino si trovava nella capitale inglese da un parente quando erano schiattati gli arresti disposti dalla giustizia minorile di Firenze. Lo scorso venerdì rientro in Italia e ad attenderlo all'aeroporto c'era la polizia che gli ha notificato la misura cautelare e l'ha accompagnato presso il centro di detenzione minorile di Roma. Il ragazzo di origini rumene è diventato maggiorenne da pochi giorni. Difeso dall'avvocato aretino Nicola Detti dovrà rispondere di alcune contestazioni che gli vengono mosse come la partecipazione a due rapine, attività di spaccio e poi l'aggravante dell'associazione a delinquere. Il capo della banda era finito in manette lo scorso marzo, a fine maggio gli altri arresti. La baby gang che per mesi aveva terrorizzato gli adolescenti e aretini, secondo gli inquirenti, sarebbe una vera e propria associazione a delinquere caratterizzata da posizioni gerarchiche.